buongiorno buongiorno rassegna in breve di video 33 oggi giovedì 7 gennaio cielo sereno in gran parte su gran parte del territorio alto tesino nelle prime ore della giornata ma sono attese nuvole un'immagine che ci porta in val pusteria le luci che vedete sono del centro abitato di brunico l'immagine scattata da plan de colores molto freddo in val pusteria meno 10 gradi questa mattina a brunico meno 2 sarà la temperatura massima andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola il corriere dell'alto adige l'ateneo cresce due nuove sedi l'università ingloberà l'ex san paolo e l'area del carcere permuta con la regione pan ottimista per quanto riguarda il 2016 che sarà positivo export sulla strada giusta lunedì il ricevimento all'aeroporto la cronaca cura dell'alto adige stazione pronte 75 telecamere allarme sicurezza ma servono anche agenti della polvere anche l'alto adige dedica spazio all'appuntamento di lunedì 11 gennaio all'aeroporto di bolzano per il ricevimento annuale di asso imprenditori e poi e poi i detenuti nei siti pro isis tutto questo nel carcere di bolzano è stata chiusa a scopo precauzionale la sala computer del penitenziario la cronaca lingua tedesca cura del quotidiano dolomiten come ogni anno puntuali le polemiche sul tricolore oggi è la giornata del tricolore le prese di posizione da parte dei partiti di destra di lingua tedesca i consigli per come utilizzare correttamente la centrale 118 non è un ufficio informazioni e poi ancora i consigli riguardo la muffa presente in alcuni casi nei nostri appartamenti quello che c'è da sapere la cronaca cura del quotidiano tag esitung il sistema assistri il sistema di controllo dei rifiuti di gestione dei rifiuti è stato rimandato l'utilizzo di questo sistema ma arrivano già le multe ad alcune aziende altotesine chiudiamo con il settimana l'eff ancora una volta la riforma sanitaria il ruolo la figura del direttore generale le spaccature che crea a livello medico livello politico e anche per quanto riguarda la popolazione è tutto io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 grazie a tutti